PORCA VACCA Continuova a ripetere la stessa cosa. Oh mio Dio, diceva Silas. Non è possibile, stai parlando di... L'ho vista anche io, nelle gallerie. Eliza Voris, la madre di Silas. Beh, credo. Chi era? Aveva uno spettacolo itinerante, Arum Scarum. Arrivò sei anni fa. Teneva il figlio in gabbia. Lo chiamava Silas il bimbo cane. Morì nell'incendio. Pare sia ancora qui. La strega di Aketsuore. Noi cerchiamo Silas da allora. La causa dell'incendio? Davvero? Ancora altri segreti? Hai sparato in faccia a mia nipote Kaylee Aket. La ragazza più buona e dolce che sia mai esistita. Voleva solo aiutare quel poveraccio. Rinchiuso in gabbia... ...da quella strega schifosa. Cosa ha fatto? Voleva... ...solo aiutarlo. Travis. Convinse Caleb ad apiccare il fuoco. Era un diversivo. Balle di fieno. Giusto il tempo di tirar fuori Silas e liberarlo. Non andò così? No. Diva un po' e morirono tutti. Il fieno fa in fretta. Eliza tutti morti. Kaylee riuscì a liberare Silas. Ma... ...Kaleb venne morso. Perciò gli date la caccia. A Silas, dico. A ogni luna piena, per sei lunghi anni. Che bravi cacciatori. Ma è... ...non rimane altro. Cristo santo. Cavolo. Vedi qualcosa? Negativo. Cazzo, non l'avevo mai visto. Neanche sapevo che fosse qui. Ryan! Merda! Scusa, stavo... Poco. Manca poco. Anche voi. L'avete visto? Preferivo di no. Anche io. Cos'è? Sai, lasci il bimbo cane. Ci siamo. Attenti. O Cristo santissimo in croce. Mio Dio. Mio figlio. Mio figlio. Cos'è c'è? Che aspetti? Spara, stupida sciocca! Siamo sicuri. Spara. Mio figlio. Mio figlio. Mio figlio. No! 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 Andiamocene. Sì, andiamo prima di vederlo tornare in forma umana. È troppo tardi. Scommetto che credi di aver capito tutto. Che ti consideri molto perspicace. Ho provato ad aiutarti. Ho provato ad avvertirti. Mi stavi quasi piacendo. Ma non più. Non adesso. Non dimenticherò cosa hai fatto fare loro al mio Silas.